Il rione Ferruccio è una storica vittoria in questa competizione in 5 anni di partecipazione e lo fa contro un mercato distratto, confusionario, poco lucido e privo di giocatori sicuramente importanti. Andiamo alla cronaca della partita, fase di studio iniziali, mercato un po' contratto, aggiritissimi tutti i contrasti dei giocatori di rione Ferruccia, gli effetti di tutto questo si vedono al sedicesimo quando con questo fallo di mano di Bartoletti, il signor Slangos decreta un disfunno di calcio di rigore trasformato da Lorenzo Nicolai. Il mercato prova a scuotersi ma non funge ed è ancora Nicolai al ventunesimo che potrebbe raddoppiare ma alza troppo la della scuotersi. Allo scadere del primo tempo c'è chi serve perfettamente Milai in contropiede, l'attaccante pulgina la retroguardia del rione mercato e batte imparabilmente il cano in fitto un diagonale di sinistro 2 a 0 Ferruccia e si va di serbato un fico più. A ripresa mister Bartolini corre subito ai ripari e inserisce perna in centro del campo al posto di uno spesso Zarrini, gli effetti si vedono immediatamente perché al sesto minuto di gioco per un altrettanto dubbio fallo di mano il direttore di gara assieme a un caffio di rigore e trasformato perfettamente da Damiano Rinaldini. A questo punto Bartolini non perde tempo e inserisce subito anche Rinaldini e Matteo in non perfette condizioni ma guardate qua cosa tira fuori l'attaccante ex aglianese, una parabola perfetta che finisce all'incluso dei pali. Nulla da fare così in fine. Il tribuna si pensa già di assistere adesso a una goleada del rione mercato ma noi invece la Ferruccia riesce immediatamente a reagire grazie ai suoi due uomini chiave. Cecchi vola via sulla faccia sinistra e serve il suo secondo assist per la corrente Nicolai che con un tempismo perfetto arriva e di piatto destro mette in letto. Gran gol. 3 a 2 per giusta. Ci prova subito a dare la scorsa Giacomo Perma che ruba palla sul 3 quarti e arriva al limite dell'area il tuo tiro si alza di pochissimo. Ma al 31esimo ci pensa ancora lui Matteo Rinaldini che stavolta si è in processo della palla e decide di segnare il di destro da 25 metri. Ancora in colpito dei venti. Su questo parteggio si andrebbe a calci di rigore ma è decisamente la serata della Ferruccia. E su questa posizione dell'area dei quarti Canucci non è perfetto nella presa ed è tutto pronto sulle mani a sfruttare l'occasione e a mettere dentro. Incredibile al Verducci 4 a 3 per la Ferruccia. È il trentacinquesimo del secondo tempo. Da lì in poi non succede più niente e i ragazzi di Mister Nicolai possono esultare per il loro primo storico successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.